Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 19 novembre, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. Sono sempre preoccupanti i numeri sulla diffusione del covid sia a livello nazionale sia a livello locale sia in Trentino che in Alto Adige. E proprio per il pomeriggio di oggi è in previsione un'importante riunione della conferenza Stato-Regioni, ovviamente in videoconferenza, proprio sulla questione dei dati, proprio sulla questione dei numeri. Chiaramente vi aggiorneremo nei nostri telegiornali. Come tutti giovedì mattina partiamo dalla prima pagina di Vita Trentina. Abbiamo ospite in studio Augusto Goio che è giornalista proprio di Vita Trentina. Buongiorno Augusto. Buongiorno a te e ai telespettatori. Partiamo proprio dall'apertura che avete scelto questa mattina per il settimanale diocesano. la stiamo vedendo, l'economia secondo Francesco Stefano Zamagni che pubblica il testo Laudata Economia. Ecco, di che cosa ragionate proprio in apertura? Sì, prima di tutto va sottolineato che non mettiamo spesso primi piani di personaggi in copertina. In questa occasione diciamo che abbiamo fatto questa scelta proprio perché Stefano Zamagni è un professore molto conosciuto, ascoltato, una voce sicuramente autorevole quando si parla di economia e nello specifico di economia civile. Parliamo di un evento voluto fortemente da Papa Francesco, ecco perché l'economia di Francesco è un evento internazionale che avrebbe dovuto svolgersi a marzo. è stato rinviato a novembre sperando in un calo di questa pandemia, così non è stato e quindi avverrà prevalentemente online anche se alcune piazze, 13 in Italia, saranno disponibili per un collegamento e nello specifico a 31 di queste piazze e sarà specificatamente a Villa Sant'Ignazio. È un evento che riunisce giovani imprenditori, economisti, pensiero forte sui temi economici e questo ci lega, se vogliamo, ancora una volta ai temi di questa pandemia che ci sta veramente preoccupando e che colpisce tutto il mondo perché si dice dovremo tornare a come era prima, invece c'è anche un pensiero che dice no, prima non andava proprio così bene e uno di questi è anche il professor Zamagni che sottolinea anche in questa tragedia mondiale come ci sia un segno di speranza nella possibilità di un cambiamento. Voi fate poi un focus sui tre comuni trentini che sono attualmente in zona rossa e proponete proprio anche alcune testimonianze che avete proprio raccolto in queste zone dove è tornato di fatto il lockdown. Sì, naturalmente siamo sempre in attesa anche di cosa emergerà dal confronto di questo pomeriggio. Ci sono appunto questi tre comuni in zona rossa dove il virus colpisce ancora in maniera dura e è un richiamo anche al rispetto delle regole e delle misure che ci viene e mi ricollego anche a un fondo, un editoriale che abbiamo messo in prima pagina una testimonianza di un lettore che è stato colpito dal virus, si è ammalato e ci racconta un po' questa sua esperienza tra appunto saturimetro, visite domiciliari di un sistema sanitario trentino che funziona anche se talvolta è sottoposto a critiche e comunque sicuramente è messo sotto pressione e ha risposto anche grazie e sottolinea questo lettore in questo editoriale che invito a leggere perché è una testimonianza di vita vissuta in questa malattia che ha colpito molti in questa seconda ondata e sottolinea appunto che alla fine poi quello che fa anche una buona sanità sono i tanti operatori ai vari livelli che concretamente accostano il malato e sanno curarlo e confortarlo. L'editoriale poi è affidato questa settimana a Paolo Rasera il titolo che è stato scelto è Un tempo per cambiare e per cambiarci. Sì, ci lega di nuovo, sono tutti temi intrecciati al discorso che abbiamo affrontato all'inizio di questa economia da cambiare e Un tempo per cambiare. In questo caso Paolo Rasera va a sottolineare tanti motivi di speranza che in questo periodo così difficile e faticoso con gli operatori economici preoccupati per anche, oltre agli aspetti naturalmente di salute pubblica per gli aspetti del danno all'economia che anche nelle nostre zone si farà sentire a lungo nei prossimi anni e che sottolinea che segni di speranza nelle tante persone che in questo periodo dagli operatori sanitari ai professori e professoresse che stanno accanto ai loro studenti anche se a distanza e tante altre figure professionali e non che in questo periodo difficile appunto sanno comunque continuare a fare il loro mestiere, il loro lavoro e questo appunto ci dice che è possibile comunque andare avanti e che se ne uscirà insomma. Non dimentichiamo che oggi con Vita Trentina c'è Vivere Insieme lo speciale Natale che è dedicato in particolare proprio agli anziani e ai pensionati eccolo qui, stiamo vedendo il richiamo che c'è anche in prima. Sì, sono 16 pagine addirittura all'impunto di questa rivista trimestrale della pastore dei pensionati e anziani che essendo appunto con questa periodicità già guarda al Natale, del resto domenica 29 è già la prima domenica di avvento quindi ci abbiamo a questo percorso, a questo cammino di avvicinamento al Natale che sarà un Natale sicuramente strano, inedito e in questo modo anche questa rivista vuole proporre comunque dei segni di attenzione, prima di tutto agli anziani, ai nostri anziani che sono così anche preoccupati e colpiti nelle tante RSA, nelle realtà del territorio e anche nelle nostre famiglie. È una, in ogni caso ci sono veramente tanti contributi, è una rivista davvero ricca che vale la pena di leggere e che viene distribuita insieme anche a Vita Trentina ai nostri lettori e agli abbonati di Vivere Insieme. E io colgo proprio l'occasione per salutare i tanti anziani che appunto ci seguono in queste giornate difficili, veramente un caro saluto. Io Augusto vorrei adesso farti riflettere su quella che è stata l'omelia di domenica scorsa dell'Arcivesco di Trento Monsignor Lauro Tisi in occasione della giornata internazionale dei poveri e della giornata mondiale dei poveri. Lasciamoci toccare dall'incontro con Gesù, ha detto proprio il Vescovo, no? Sì, è stata anche in questo caso una giornata condizionata dalla pandemia Covid-19 e la tradizionale giornata del ringraziamento che è un'occasione appunto per anche la benedizione dei mezzi agricoli che ovviamente non ha potuto avere luogo e doveva esserci anche la presenza appunto del mondo agricolo così non ha potuto essere e si spera naturalmente di recuperare però in questa riflessione il Vescovo Lauro ha toccato tanti temi che ciascuno di noi sente vicini quindi un'attenzione a chi fa più fatica, a chi alle realtà di povertà che abbiamo anche sul nostro territorio e un pensiero appunto anche a chi vive una realtà di sofferenza proprio a causa di questa pandemia. E ha ricordato poi, devo dire, mi ha molto impressionato perché io ho seguito proprio nel dettaglio l'Omeria del Vescovo per lavoro, per questioni di lavoro e mi ha molto colpito anche lui ha elencato i tanti sacerdoti che proprio in queste ultime settimane ci hanno lasciato, hanno lasciato la comunità trentina, parecchi dei quali proprio a causa del Covid. Certo, è un momento di grande sofferenza anche per la Chiesa di Trento e c'è stato questo ricordo particolare il Vescovo Lauro ha nominato uno ad uno i sacerdoti scomparsi proprio in queste ultime giorni, in queste settimane e direi che questo ci lega in qualche modo anche al tema della giornata di domenica 22 che è la giornata tradizionalmente dedicata al nostro seminario diocesano ne parliamo a pagina 11 nel nostro numero in edicola e è un'occasione per ribadire l'importanza anche di questa presenza nella Chiesa di Trento di questi giovani che sono anche non solo della Diocesi di Trento ma anche della Diocesi di Belluno-Feltre che si preparano ad un cammino che li porterà ad abbracciare il sacerdozio è una realtà che è anche uno stimolo per tutta la nostra comunità e vorrei dire non solo la comunità cristiana ma la comunità anche civile per una presenza che in qualche modo davvero diventa un segno anche di futuro e di speranza. È stato ricordato tornando sempre anche all'Omelia di domenica scorsa e comunque a tutta la celebrazione di domenica scorsa che proprio in quei giorni solitamente magari si dovevano celebrare delle cresime o delle prime comunioni, ovviamente quest'anno non è stato possibile e poi c'è stato un richiamo anche molto forte proprio del Vescovo all'uso della mascherina e al distanziamento sociale si è proprio soffermato il Vescovo su questo Certo, non a caso abbiamo voluto accostare queste parole anche una bella immagine del nostro fotografo Gianni Zotta che sa sempre cogliere degli aspetti così particolari proprio in uno dei comuni diventati in questo periodo zona rossa Basilga di Pinè è andato a cogliere un particolare di due sedie di un esercizio pubblico, di un bar con un segno proprio materiale un nastro che segna proprio materialmente questa distanza è un modo perché anche le immagini spesso parlano molto più di tante parole e un modo per ribadire anche la necessità di questo rispetto di regole che sicuramente limitano le nostre libertà ma fanno bene a noi e fanno bene anche a chi ci sta intorno Ricordiamo anche il sito, il sito internet di Vita Trentina dove ovviamente ci sono aggiornamenti e ci sono contributi anche audio-video Sì, certo, tra l'altro c'è stato un episodio un po' increscioso nei giorni scorsi, il data center dove appoggiamo tutti i nostri archivi è stato oggetto di un attacco informatico come molti altri siti che fanno riferimento alla galassia della Chiesa Cattolica Italiana e fortunatamente i tecnici poi della società che ci cura la Chiesa hanno ripristinato e anche il sito diocesano e tanti siti diocesani di altri diocesi in Italia sono tuttora diciamo ripristinati in maniera provvisoria speriamo che si possa risolvere questa situazione non si sanno naturalmente i motivi di chi possa avere interesse poi a silenziare delle voci che sono sempre molto vicini al territorio e appunto a chi fa anche più fatica Prima di chiudere ti chiedo se c'è qualcos'altro da mettere in evidenza che magari io non ho colto nelle pagine, nelle pieghe delle pagine proprio del settimanale diocesano che è in edicola da questa mattina Beh, proprio in maniera flash, tornare proprio sul tema dell'economia e vorrei sottolineare che questo libro che esce a firma del professor Zamagni è il primo di una collana che nasce per volontà della fondazione Don Lorenzo Guetti e di Vita Trentina Editrice con il marchio Vtrend avrà una diffusione nazionale e sarà disponibile dal 30 novembre nelle librerie e l'altro tema appunto sempre di economia e di finanza è quello del mese della finanza etica ne parliamo a pagina 6 e anche questo ci torna a far parlare appunto della necessità di cambiare anche i nostri comportamenti che possono essere decisivi anche in questo periodo così difficile per uscirne in maniera diciamo rinnovata Io ringrazio molto Augusto Goio, giornalista di Vita Trentina che ci ha proprio guidato questa mattina all'interno delle pagine del settimanale diocesano